E benvenuti in me molto altro, sono il mio arancione, sempre io, con Sniper Elite 5. Oggi andremo a fare probabilmente quella che è l'ultima missione di questo gioco, perché il DLC del numero 10, la missione 10, non credo che la faccio, oppure sì, devo un attimo rifletterci, voi fatemi sapere se la volete, però dovete essere molto numerosi a commentare, altrimenti evito la spesa del DLC Le visualizzazioni non saranno quelle che dovrei aspettarmi per questa serie. Ma per ora andiamo a fare la missione 9. Andiamo subito a farlo, vediamo l'abilità, se possiamo migliorarla così al volo, credo che sì. Possiamo fare tutto quanto e anche qui mettere questo, insomma. Vediamo com'è. L'America è finita, ma Moeller, il bambino che è, escapisce di San Nazare. Abbiamo trattato il volo al Chateau di Barangar, e ho un uomo con il suo nome. Ok. Cosa sta per fare? Perché di questa cosa? Ah, perché devono bruciare certo tutti i documenti? Per nascondere... Siamo pronti a rinforzare e a rinforzare come il Weasley. È abbastanza distanza, Fairbairn. Guarda questo. Mamma mia, signori, dobbiamo andare qua, il signore. Allora, vediamo un po'. Qua se divertiamo, eh. Ma quanti ce ne stanno? Ok, la camionetta. Eccolo lui. Moeller, qui sei. È tempo per finire questo. Guarda qua quanti ce ne stanno. Mi sa che la missione però può ucciderli. Vediamo dove sta andando lui. È la macchina? Ma c'è una bella cosa, va. Vediamo brevemente la missione. Uccidi Albert Moeller. Eh, allora è così? Cioè, gli spari ho finito la missione e non ce credo mai. Cioè, davvero funziona così che io devo... Ma non ci arriva. Cioè, se fugge ho finito? Ho perso, se fugge? Ma dai, non ci credo mai. Ma non ci arriverò mai. Non ci arriverò mai. Ma mi sa che lo dovevo uccidere un pochetto prima, eh? Vogliamo rifarla? Riavviamo una partita. Vediamo come si fa. Ricomincia. Non ho capito tanto bene sta cosa. Secondo me gli devo sparare subito. Vabbè, questo lo saltiamo. Cioè, praticamente subito lo devo ammazzare. Vabbè, muoviamo qua. Ecco, mi ha ammazzato. E mo? Cioè, mi ha ammazzato pure quest'altro che il poraccio è rimasto così. Ma è finita così la missione? Cioè, sono arrivato, io ho sparato e se ne siamo andati? Non ce ne credo mai. Sono molto assai perpresso questa cosa. è mo' finita il gioco. Ho vinto! L'ombra, ho fatto tutto? Ma davvero? Cioè, un gameplay... Preparazione, missione 9? Un attimino, voglio vedere. No, l'ho fatto. Questo è DLC, non posso farlo. Cioè, questo è DLC a pagamento per farmi fare la decima missione? Non ci credo. Abbiamo finito lo sniper elite 5. Magari, non lo so, se farò la decima missione. Ma per ora, se vi è piaciuto questo mini gameplay, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi. Io sono molto perplesso. Fatemi sapere perché questa missione è durata così poco. Il me l'arancione vi saluta e vi aspetta nel prossimo video gameplay e un video di me e me e molto altro. Ciao! Ciao! Ciao